Ma se non fossimo noi a fare fortuna? Se fosse la fortuna a fare noi. Piacere, Emery Stains. Anna Wetherer. Si era stabilita una magia tra noi due. Mio marito, Crosby Wells. Che è dove si trova l'oro? Lo dividete a metà con me. Il destino non è in cosa accadrà, è in cosa deve accadere. Pensate al cielo come uno specchio. E ciò che vedete è quello che voi siete. Ma non è semplice definire quello che siete. Mi ha, 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 mi ha. Grazie a tutti.